Ma che cazzo... Che succede? Dove sono? È... è Acre? È Altair? Come Dio? Non sono neanche nell'Animus. Devo essere svinuto. Ho fatto un sogno strano. Era un bel pezzo che non dormivo. La cosa non vorrebbe sorprendermi. Quello deve essere il suo versaglio. Già. Già. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' la donna di lei? Come si chiamava? Maria? Sì. Chissà che cosa vuoi fare. Però questo non me l'aspettavo. Un attimo. Perché non si è uguale? Un attimo. Sono bloccato qui con Maria. Un pezzo. Significa che... Questo è un sogno assoluto.